Abbiamo aperto la manifestazione ieri ricordando un uomo che è stato condannato per legittima difesa, Hermès, che è morto purtroppo, dopo aver subito un'aggressione violentissima dentro causa di cui è stato condannato perché ha cercato di difenderti. Ma che sta dicendo? Quelli sono gli italiani che vanno dipendendo. Quelli sono gli italiani che meritano di avere le risposte, i poliziotti, però non esagerate, è morta una persona non la strumentalizzata, questo ha ammazzato due persone che erano disarmate, ma non essere aggressiva, quando è il momento parli tu, detto questo, anche ieri per esempio, io voglio ringraziare le forze dell'ordine che hanno garantito alla piazza di poter svolgere in maniera democratica la nostra manifestazione. Purtroppo ci sono stati incidenti fuori dalla piazza, se ne assumono la responsabilità, però forze dell'ordine che poi nella legge di stabilità che cosa ottengono? Nulla.